Allora mister, un punto importante su un campo difficile, certo c'è un po' di rammarico perché si vinceva fino all'ottantottesimo, come l'ha vista la squadra? Quest'anno è così, oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo veramente giocato la grande, abbiamo giocato la squadra persino esperta, adesso è il primo anno che siamo in prima categoria, alcuni giocatori che avevano giocato nel anno hanno fatto una prestazione veramente importante, dispiace perché questo è l'ottantottesimo, alla fine ci è saltato tutto, avremmo potuto vincere, nel secondo tempo il Pantolungo ha avuto una grossa occasione per pareggiare, non avremmo, non credo che avremmo rubato se avessimo vinto, ma il pareggio ci sta, diciamo che se prima di partire ci avessero detto che facevamo un punto sul loro campo con una squadra così fisica e forte, realmente ci sarebbe andato bene, adesso c'è qualche rammarico però, tanto sono due risultati utili consecutivi e l'America ci aspetta l'olora e se continuiamo così, sono molto fiducioso per la salvezza. Bene, la ringrazio mister, buona serata e complimenti. Grazie.